Per il nome che scende il cuore della schiena, svolvolare, poi risalire e piegare. Mi ispirare, mi stendere, rilassare e svolvolare, mi viene, mi viene avanti, mi ispirare, mi ispirare, mi ispirare, mi ispirare. Mi cambio, scende, rilassare. Ancora, lavoro sulla colonna, adesso pressione laterale, flessibilità. Peso a destra, punta del piede sinistro, ma il peso rimane a destra. Inspiro, mi stendere, allungare, poi flettere leggermente a sinistra. Inspiro, mi spiro, mi spiro, sinistra, allungare, e riflettere mantenendo il peso a sinistra. Inspiro, mi spiro, mi spiro, mi spiro, la testa. Spiro, mi spiro, la testa. Spiro, mi spiro, mi spiro, mi spiro, mi spiro. Ancora, petto, aprire e chiudere. Spiro, i piedi paralleli. Rilassare le spalle, sempre questo aggancio verso il cielo, il momento che rientra. distendere. E poi concentriamo sul petto. Inspiro, aprire. Inspiro, chiudere. Morbido, come se il movimento partisse dal centro, dall'espansione, dal centro, dall'antienna mediale. Inspiro, espiro. Sempre quando espiro, non chinare la testa, ma sempre mantenere l'allungamento verso il cielo. Inspiro, espiro. Sciogliere le spalle, il petto, la zona borsale. Attivare la regia dell'antienna mediale, il petto. Seguire le spie. Quindi padre, il franta, noi spiro, chiude e chiudere. Spiro. Spiro. I non mucha dici. Siamo arrivati alle spalle, facciamo anche le braccia con un movimento manico del nuvole, così esercitiamo anche un movimento tipico della forma del teci. Partiamo con la mano sinistra davanti al viso, la destra palla verso la terra, ruoto verso sinistra, mano sinistra in alto, poi la mano sinistra scende, ruoto verso destra, sale, mano destra, mano destra in alto, sinistra, sinistra in alto, movimento fluido, morbido, continuo. Anche qui c'è quel momento del bacino che abbiamo visto prima con questo movimento, a otto, che genera, cerchio, spirale. Qui possiamo fare inspiro a destra e inspiro a sinistra, questo movimento è più complesso. Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche qui, sempre nei movimenti, tutto il corpo partecire, quindi non è un movimento limitato alle spalle, ma piano, come un onda, anche qui, percorre tutto il corpo, come i piedi, le spalle. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.